Domenica 10 maggio 2020. È il 131esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del toro. Oggi è la festa della mamma, quindi auguri a tutte le mamme. La chiesa ricorda San Cataldo. L'onomastico. Oggi festeggiamo l'onomastico di Cataldo. Il nome ha origine tedesca e significa forte in guerra. Il numero portafortuna è l'uno, il colore è l'arancione. Accadde oggi. Il 10 maggio del 1980 compare sul mercato in Giappone per la prima volta il fortunatissimo videogioco Pac-Man. Sembra che l'idea soggiunse al suo inventore, Toru Iwatani, durante una cena con degli amici, guardando una pizza a cui era stata tolta una fetta. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 10 maggio ricordiamo il cantante irlandese, il leader degli U2 Bono Vox e il musicista punk americano Sid Vicious. La citazione del giorno. Il male nasce sempre, dove l'amore non basta. Ermanesse. Dice il saggio. È difficilissimo parlare molto senza dire qualcosa di troppo. Il bel paese. Tra i luoghi insoliti di Roma che meritano una visita c'è la passeggiata del Gelsomino. Si tratta del binario dismesso della ferrovia vaticana che congiunge l'Italia allo stato della città del Vaticano, trasformato in una splendida passeggiata che arriva fino alle porte dello Stato papale. Percorrendo l'ex binario si costeggiano i tetti delle abitazioni e si ammira il cupolone da un'insolita prospettiva. Per trovare la passeggiata del Gelsomino bisogna andare alla stazione San Pietro, entrare come se si dovesse prendere il treno e girare subito a destra, costeggiando il binario 1. Il viale porterà sino alla rampa Aurelia, la scalinata che corre lungo le mura vaticane.